Via ufficiale, ricordiamo insomma potete correre o camminare, chi è già abituato a correre con i cani sicuramente la farà di corsa per tutti gli altri è una semplice passeggiata a scopo solidale visto che ci sono i proventi devoluti in parte all'Astad ci sono cani molto giovani sul bel corso di due mesi e mezzo o tre ci sono anche cani molto anziani di 17-18 anni a uno in particolare lo prenderemo alla fine della corsa continuate a sistemarvi dietro, i più veloci anche davanti chi ha intenzione di tornare può farlo con le prime fine e ti lascio rinunciare a passeggiare e magari si scoppasse il compagno a dietro il tuo lato a tutti gli altri è vero che ci sono dei affezionati alla corsa che sono già partecipate all'Azzi edizioni è un cucciolo dato da un amore sbocciato con un amore di popapossa Grazie. 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 Togliamo la musica perché adesso prepariamo la trezza di piccolo e quindi ci dovranno fare la musica quando? Allora, siamo pronti. Un colpo alla rovescia. Una, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, via partiti! Buoni del metodo! Una cosa! Tutti! No! Di infogli, 온가지고. No! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.